Si è dovuto attendere la notte tra mercoledì e giovedì per avere la triste e definitiva conferma della morte di Alin Marian Balan, il rumeno di 42 anni disperso nel lago Gibesi. Era molto tardi quando i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, arrivati da Palermo insieme ai colleghi del comando di Agrigento, sono riusciti a individuare il corpo dello sfortunato 42enne che viveva a Campobello di Licata. Che non ci fossero speranze di ritrovare in vita il rumeno di 42 anni si era già capito nel pomeriggio di mercoledì, dopo che l'uomo si era immerso nelle acque del lago che si trova nella zona tra Naro e Ravanusa. Balan si era lanciato in acqua per un bagno dopo avere pranzato e trascorso un po' di tempo con familiari e amici nel corso di una scampagnata. Un momento di gioia e allegria è divenuto tragedia subito dopo. L'uomo è infatti improvvisamente andato a fondo per non riemergere più. L'allarme era scattato rapidamente e sul posto erano arrivati oltre i Vigili del Fuoco anche un'ambulanza del 118 insieme all'elisoccorso dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta insieme ai carabinieri. Ma non c'è stato nulla da fare. Gli investigatori dell'arma hanno solo potuto raccogliere le dichiarazioni dei testimoni presenti sul posto per ricostruire quanto accaduto.